Per avere un portafoglio di investimento potente ti bastano in realtà solo 3 ETF e in questo video ti mostro proprio quali sono. Lo so, è un claim un po' forte, però tendenzialmente, soprattutto per chi ha le prime armi, può essere utile utilizzare gli ETF come strumento per investire, strumento relativamente comodo soprattutto per diversificare. C'è chi utilizza uno solo di questi ETF che ti sto per mostrare, c'è chi invece ne utilizza di più in combinazione, c'è chi ne aggiunge addirittura altri, però tendenzialmente con questi 3 ETF riesci a colpire in modo più o meno pesante quello che ti serve colpire. Ho fatto tra l'altro un video, questo qui per esattezza, in cui analizziamo il perché scegliere un ETF piuttosto che l'azione direttamente e soprattutto quando farlo. Per riassumerlo, però battelo a vedere perché lì hai spiegato tutto in modo estremamente completo, per riassumerlo dipende dalla tua esperienza. Se sei esperto sui mercati, allora probabilmente è molto meglio andare a selezionarsi delle azioni mirate perché si possono ottenere dei profitti maggiori rispetto, a fronte di un rischio maggiore ovviamente, rispetto che andare a colpire degli ETF che sono un pochino più per chi è meno esperto, ma anche per i più esperti può essere utilizzato. Per esempio io nel mio portafoglio li utilizzo, utilizzo entrambe le cose, gli ETF in particolare li utilizzo per andare a mediarmi e diversificare ulteriormente quello che è il mio portafoglio azionario. Perché da solo non posso gestire 800 azioni, né tantomeno le 500 di un semplice SP500, perché non le conosco tutte, non conosco tutti i settori, quindi sarebbe follia. Però ne ho un paio, qualcuna che tengo lì e che conosco e che mi studio e mi guardo, dall'altra parte invece utilizzo gli indici per cercare di dare un po' un edge, se vogliamo, al portafoglio. Andiamo a questo punto sulla piattaforma che utilizzo, si chiama Trade Republic, è una banca, qua sotto ti lascio il link. Ti permette di ottenere interessi sulla liquidità, i fondi sono assicurati fino a 100.000 euro coperti dal Fondo Monetario Europeo, è regolamentata Bafin, quindi assolutamente ultra legit. Piattaforma estremamente veramente interessante, c'è anche l'app da cellulare, hai anche la carta se vuoi spendere la liquidità che depositi. Sua liquidità che depositi ho detto c'è un interesse del attualmente 3,75%, fino a qualche mese fa era il 4%, cambia, varia in base ai tassi interesse della BCE. Quindi se vengono abbassati viene abbassato anche il tasso qui, quando vengono alzati viene alzato semplicemente. Quindi molto interessante perché puoi parcheggiare da un lato la tua liquidità ottenendo interessi, cosa che nelle maggior parti banche non si fanno, con la stessa sicurezza della banca che utilizzi perché comunque è una banca. Dall'altra parte puoi investire in azioni, veramente un sacco di cose, vediamo qua, ci sono azioni, ci sono anche crypto ma qua ti esponi solo al prezzo, quindi non stai possedendo realmente i bitcoin, gli ethereum che vai a comprare e così via. Gli etf e anche le obbligazioni, così come i derivati. Personalmente utilizzo questo applicativo per comprare azioni ed etf. Di quali etf stiamo parlando? Allora il primo etf secondo me immancabile in questo momento è il classico sp500. Perché l'sp500? L'sp500 ha al suo interno le 500 big company per capitalizzazione statunitensi, quindi vanno a seguire queste 500 e noi possiamo acquistare queste etf, delle quote di queste etf come fossero azioni a tutti gli effetti, di conseguenza esporci ad l'intero mercato, in questo caso statunitense, delle top 500. Ecco perché l'utilizzo. L'utilizzo perché mi permette di avere in portafoglio 500 company che non è male. Quale scegliere? Ce ne sono diversi. In particolare secondo me quello più sensato è il core sp500, si chiama qua USD accumulazione. Questo qui è di iShares, non è altro che BlackRock, quindi è il suo etf basato sulle 500 azioni più capitalizzate attualmente negli Stati Uniti. Vediamo una commissione dello 0,07%, quindi una commissione di gestione annuale dello 0,07%, tu direi che se depositi 100 dollari devi dare ogni anno 0,07, quindi 7 centesimi a BlackRock di gestione. Per accumulazione cosa significa? Quello che sono i dividendi che vengono pagati vengono reinvestiti in realtà per acquistare altre posizioni. Questo porta il prezzo tendenzialmente a salire, può scendere perché è come se facessimo interesse composto. Cioè il grande vantaggio dell'SP500 gestito tramite appunto ETF in questo caso come iShares per accumulazione è che mi permette di fare sostanzialmente un composto, cioè di andare in interesse composto perché vado ogni volta a riaccumulare. Ciò non toglie che non si faccia degli scivoloni, cioè non è che va sempre su, si fa anche dei movimenti in giù. Ora l'ultimo anno siamo a un più 26-70%, negli ultimi 5 anni vediamo un rendimento circa del 114%. Qui purtroppo, e questa è una pecca di Trade Republic, non ti fa vedere degli storici maggiori. Però apri un qualsiasi grafico, basta anche solo cercare SP500 su investing.com, tosto che su Yahoo Finance e così via, e troverai l'intero grafico. Andando a vedere l'intero grafico si può notare che mediamente l'SP500 fa tra un 7-8% annualizzato di media, perché vuol dire che c'è un anno come quest'anno che fa il più 27% e qui ci sono momenti in cui va bene, momenti in cui va male. Questo sempre sottolinearlo, l'investimento richiede nervi saldi e richiede soprattutto competenza. Anche se si compra una manciata di ETF bisogna comunque avere un'idea di quello che si sta facendo. I settori attualmente sono tecnologia dell'informazione, quindi il settore tech prevalentemente 31,75%, finanziario un 12,86%, assistenza sanitaria un 12%, beni di consumo 9,67%, telecomunicazioni 8,91%. 100% Stati Uniti. Composizioni, qua posso andare a vedere che cosa c'è dentro, vediamo c'è Apple 6%, Microsoft 6%, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, Ellililly, Broadcom, JP Morgan, Tesla, UnitedHealth, Exxon, Visa, Procter & Gamble, Costco, Johnson & Johnson, Mastercard, Home Depot, AdWi, Walmart, Netflix e così via. Quindi sono tutte le top Stati Uniti. Puoi aiutarti se vuoi da qua, Just ETF, vai a cercarti l'SP500, ti mostra gli emittenti e tu puoi andare a vedere la dimensione del fondo, quindi quanto è grosso, puoi vedere le variazioni, puoi vedere il tipo di replica, eccolo qua ad esempio, è basata su swap, questi qua sono i sintetici. Puoi andare a vedere, vabbè, l'easing, tutto quello che ti serve e poi ti basta copiarlo e andarlo a inserire su Trade Republic per cercare quello lì. Come vediamo subito, se andiamo per capitalizzazione, quindi la dimensione del fondo, questo è in milioni di euro, iShares, Core, SP500, questo, che è quello che abbiamo scelto noi di là, è il più grosso. Poi c'è Vanguard e poi così via. Quello di Vanguard in questo caso è in distribuzione e quello di iShares in accumulazione. Distribuzione cosa vuol dire? Che anziché accumulare gli utili e reinvestirli, quindi fare composto, ti distribuisce tutti i dividendi. Quindi tu compri un SP500, quell'SP500 ti distribuisce un dividendo e di valuta come vuoi fare. Io volevo fare accumulazione o anche in realtà uno per distribuzione, quindi li ho entrambi. Una cosa che faccio è diversificare anche tra gestioni, perché comunque vediamo che ci sono delle differenze in termini percentuali di rendimento. Quindi quello che faccio io è avere da un lato uno, dall'altro un altro, con due fondi diversi, due dimensioni diversi, perché ricordiamoci una cosa, comprare un ETF non vuol dire, boh, sono tranquillo, compro quello, io non sto comprando le azioni. Non sto comprando realmente le azioni, non le sto possedendo io, Stefano De Masi, le sta possedendo BlackRock e BlackRock, piuttosto che Vanguard e così via, mi dà un coupon che è quello a cui tu ti stai realmente esponendo. Quindi tu non possiedi le azioni, le possiede BlackRock quelle azioni e ti dà il tuo scontrino e ti dà poi quello che ti deve dare man mano che si apprezza e tutto il resto. Questo è molto importante perché è anche risposta al fatto perché ho scelto quelli con capitalizzazione maggiore, perché dei fondi con capitalizzazione maggiore tendenzialmente sono meno rischiosi di uno con capitalizzazione più bassa. Se vado a pescare un fondo con una capitalizzazione più bassa, se quel fondo fallisse o ci fossero problemi, venisse chiuso o diventa insolvente o che cavolo ne so, io perdo i soldi. Quindi devo comunque fare attenzione, cioè non prendiamo gli ETF come, boh, fighissimo, butto lì, è esattamente come investire in azioni. Non è la stessa cosa, è un po' diversa la questione. Anche lì diversificare, secondo me, tra ETF, tra emittenti di uno stesso ETF, può aver senso, soprattutto anche in ottica di commissioni, perché io magari vado a comprare lui con un 0.05% di commissione e un iShares con lo 0.07, poi magari in distribuzione ancora meglio, uno in accumulazione. Quindi vado a diversificare in questo modo. Comunque tu da JustETF, ti lascio qua sotto il sito, hai tutta questa roba qui gratis. Questo era il primo, quindi il primo va a colpire il mercato USA. Perché il mercato USA? Tu stai e dici che il mercato USA si indebolisce, che la Cina sta crescendo e tutto il resto, vero? Secondo me la Cina presto sorpasserà gli USA, così come tutti i BRICS sorpasseranno il nostro mondo occidentale, ma ciò non toglie che attualmente il mercato con più capitalizzazione è quello statunitense, il mercato più benestante è quello statunitense e il mercato con più soldi e la maggior parte dei soldi, lato investimenti, è sul mercato statunitense. Cioè gli Stati Uniti da soli hanno un 46%, circa 47% della liquidità sui mercati, esposta sui mercati, globale. Quindi stiamo parlando di un peso estremamente elevato. Ad oggi sono ancora una potenza, ad oggi la maggior parte di big company sono statunitensi e di conseguenza secondo me esporsi sul mercato USA, 100% USA può essere utile. Quindi abbiamo detto da un lato SP500, lo scrivo qui, facciamolo così, il primo ETF. Il secondo ETF, ora abbiamo un'esposizione, sì sul mercato USA, ma io voglio andare a espormi anche su altri mercati. Posso andare a pescare allora un Emerging Markets, per esempio, eccolo qua. Io qua ho sempre di iShares, quindi sempre di BlackRock, un Core MSCIEM che sta per Emerging Markets, IMIUSD accumulazione. L'Emerging Markets quest'anno è andato relativamente bene, meno dell'SP500, ma comunque bene, un 15,62%, nei 5 anni un 36%, un po' più lento anche perché parliamo di mercati emergenti. E infatti vediamo innanzitutto una commissione dello 0,18%, quindi qua mettiamo M che sta per Emerging Markets. Andando un po' giù, sempre accumulazione, sempre BlackRock. Andiamo giù, 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 giù. Vediamo i settori sono tecnologia di nuovo, finanziario, beni di consumo, industriale, telecomunicazione, quindi simili anche come percentuali a quelli dell'SP500. I paesi vediamo prevalentemente Cina, 21% Cina, 20% India, poi c'è Taiwan, 19%, Corea del Sud, 11%, Brasile, 4%. Quindi ho scelto l'Emerging Markets più che altro per andare a espormi su altri mercati, quindi SP500 per gli USA, che sono attualmente la potenza, Emerging Markets per espormi su che cosa? Sui mercati emergenti, in particolare l'Oriente, la Cina e così via. Tra l'altro se tu clicchi mostra di più, ti mostra anche il resto, vedi l'Arabia Saudita, Sud Africa, Messico, Indonesia, Malesia, Tailandia, Emirati Arabi, Polonia, Turchia, Kuwait, Qatar, Irlanda, Filippina e Germania, Grecia, anche se poco, Cile, Peru, Ungheria, Stati Uniti, Colombia, Egitto, Ras di Hong Kong e Regno Unito, quindi Stati Uniti ci sono nuovamente anche comunque meno, però il peso maggiore lo si ha qua, tra le big, quindi Cina, India, Taiwan, Corea del Sud e Brasile e Arabia Saudita e Sud Africa, quindi questi qua sono i top. Di nuovo hai una composizione, vediamo, c'è qui, ci sono tutte le varie aziende, Spica ad esempio Alibaba, che lo riconosci subito, Samsung e così via, e quindi qua hai tutti i vari dati. Ancora una volta vediamo, quello di iShares al primo posto con questa liquidità qui, poi cala bruscamente e questi sono i rendimenti, vediamo, nell'ultimo anno, quindi è questo qua, in questo caso è lui. Ho scelto questo, di nuovo di iShares, anche se non mi piace andare a beccare solo iShares, cerco sempre di dividere, fare magari un po' Vanguard, un po' Emundi e così via, in modo da OX Trackers, per andare a avere diversi emittenti e quindi non essere tutto full, perché SP500 di iShares, quello di quello, cerco sempre di dividere. Comunque tendenzialmente ho preso un paio di SP500 diversi, nel caso delle Emerging Markets, come puoi vedere qua, ne ho due, quindi ho sia questo qua di iShares, sia questo qua, questo qua è quello di Vanguard, in distribuzione, quindi uno in accumulazione e uno in distribuzione. Anche in questo caso vediamo il rendimento, è più o meno simile, anzi qua è più basso rispetto l'altro, però replica più o meno le stesse cose, come vediamo, perché tanto è un Emerging Markets e quindi quello c'è dentro, con qualche lieve differenza, però li ho presi entrambi, di nuovo sempre in ottica di diversificazione. Infine, l'ultimo ETF, è il classico ETF, quello che dicevo che può essere utilizzato tecnicamente anche da solo, in che senso? Eccolo qui, il World, un ETF che va a colpire l'intero mondo, con una percentuale in realtà maggiore sugli Stati Uniti, che adesso vediamo. Il rendimento in questo caso, dell'ultimo anno, è stato più o meno il 23,74%, quindi simile a quello dell'SP500, nei cinque anni un 88%. molti utilizzano questo singolo ETF, e sta iniziando ad andare di moda questo singolo ETF, perché con un solo ETF colpisci un po' tutto il mondo. In realtà, io sì, ce l'ho nel portafoglio, ma non lo utilizzo da solo, cerco sempre di abbinarlo con degli ETF un po' più mirati. Hai visto sicuramente gli SP500 che abbiamo appena visto, gli Emerging Markets, ma poi ho anche degli ETF, per esempio, sulle commodities, o sull'acqua, oppure degli ETF, sul loro fisico, quindi vado a colpire anche diversi aspetti, cioè cerco di diversificare, tanto nel mio reparto azionario, quanto nel mio reparto ETF. In questo caso, ho quello di Amundi, uno 0,12% di pagamento, chiediamo, quindi di commissioni, vediamo che prevalentemente nell'ambito elettronica, internet e software, prodotti farmaceutici e cosmetici, bancario, petrolio e gas. Attualmente è un 69%, Stati Uniti, per questo ha un movimento molto simile a quello degli Stati Uniti. Abbiamo poi il Giappone, Regno Unito, Canada, Svizzera, andiamo a mostrare di più, Francia, Germania, Australia, Paesi Bassi, Irlanda, Danimarca, Svezia, Spagna, Italia, ci siamo anche noi, Singapore, RAS di Hong Kong, Finlandia e così via. Come vedi qua, non compare la Cina, non compaiono alcuni di questi ambiti, quindi ci esponiamo ancora una volta a altri paesi, Giappone, Regno Unito, Canada, Svizzera, Francia, Germania, Australia, Paesi Bassi, Irlanda, quindi tutti quelli sono sopra l'1%, è un'esposizione diversificata rispetto a quelli che avevo prima. SP500 tutto USA e qui ahimè siamo di nuovo prevalentemente in USA ma perché gli USA attualmente sono la potenza. Abbiamo l'Emerging Markets che ci colpisce prevalentemente i BRICS quindi Cina e così via e poi abbiamo questo qui il World che ci va a colpire magari più il Giappone, il Regno Unito e questo ci permette di esporci in modo molto più radicato un po' ovunque. Ripeto, questi 3TF possono essere molto potenti da utilizzare in questo modo quindi acquistarli tutti e tre e avere un'esposizione interessante. Ciò non toglie che se sei più esperti si può andare ad aggiungere un pochino più di brio andando a colpire delle azioni singole. Questa è una cosa che si può assolutamente fare. Ti mostro un'ultima funzionalità di Trade Republic molto molto interessante che tu ora magari vorrei acquistarlo. Qui sono da computer puoi farlo anche da app anzi da app è più comodo sul cellulare però per comodità te l'ho mostrato qui così si vede più in grande ed è più semplice da comprendere. Come vedi io posso acquistare o vendere se io vado su vendi o azioni o importo quindi posso decidere quante azioni vendere di quelle che ho oppure posso decidere quanto in base all'importo posso andare su acquista e acquistare quindi se io qua se io dico comprami 10 euro posso andare a comprare tot azioni. Cosa importante quando io acquisto in questo modo pago una commissione di un euro sull'acquisto e un euro sulla vendita. Trade Republic funziona così paghi sempre un euro di commissione e questo vale sia per ordini da 2 euro sia per ordini da 10.000 euro quindi se tu vuoi fare degli acquisti singoli così puoi utilizzare questa soluzione qua oppure puoi creare quelli che sono i piani di accumulo. Se io adesso scorro giù vedrai qua che ho un piano di risparmio impostato cliccando qua sopra ho creato un piano di risparmio questo piano di risparmio è gratuito quindi non pago quell'euro quando compro è totalmente gratuito potenzialmente io potrei creare un piano d'accumulo faccio partire l'accumulo una volta mi ha comprato chiudo il piano d'accumulo e quindi ho comprato a 0. Però questo è un trick non diterò a Trade Republic perché se no non prendono commissioni poveracci comunque a parte questo il piano d'accumulo può essere fatto come vedi facciamo gestisci settimanale due volte al mese mensile o trimestrale poi ipotizziamo scegliamo mensile diciamo avanti diciamoli quando farlo inizio mese o metà mese generalmente è il 2 e il 16 di ogni mese che fa gli acquisti poi se il 2 cade di domenica mi scala lunedì quindi lo farà il 3 perché il mercato deve essere aperto mettiamo esempio metà mese diciamoli avanti e selezioniamo l'importo comprami 3 euro al mese comprami 1 euro al mese comprami 1000 euro al mese indipendentemente da quello che tu scegli lo metti qua dice avanti non pagherai commissioni e quel giorno andrei ad accumulare ad un prezzo più conveniente durante la giornata a volte te lo compra di mattina a volte te lo compra di sera però statisticamente ho visto tracciando anche su Yahoo Finance che più o meno riesci a prendere sempre un prezzo abbastanza competitivo difficilmente lo prendi più alto rispetto al mercato quindi penso vado a fare una sorta di media non lo so però viene eseguito a un prezzo relativamente buono quindi molto molto semplice da utilizzare la piattaforma in sé ti ho mostrato quelli che sono i 3 tf che potenzialmente potresti inserire in portafoglio sia che tu abbia un portafoglio già variegato per crearti un po' un edge andare a diversificare maggiormente oppure se vuoi andare full etf questi secondo me sono i 3 tf essenziali senza troppi fronzoli che puoi avere soprattutto se fai una sorta di piano pensionistico quindi un accumulo nel tempo fammi sapere cosa ne pensi nei commenti iscriviti al canale se questo video ti è piaciuto e per avere tante altre informazioni e aggiornamenti ti ringrazio per essere stato qui con me qua sotto il link di Trade Republic hai anche dei bonus delle azioni gratis se utilizzi il mio codice un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video